Buongiorno, oggi farò un video molto breve e anche molto semplice diciamo nel suo concetto, però è importante ricordarlo perché molto spesso la nostra mente, anche concetti che possono essere molto semplici, li elude, li dimentica facendoci cadere in comportamenti erronei. Ecco, il concetto della perdita di tempo, noi quando nasciamo praticamente nasciamo a tempo determinato, usiamo questa similitudine come avviene nel mondo del lavoro dove molte persone giustamente ambiscono e bramano al tempo indeterminato perché l'indeterminato dà quella sicurezza in più, con quella tranquillità in più psicologica per poter effettuare un lavoro. Ecco, per quanto riguarda la vita, noi nasciamo a tempo determinato, nella migliore delle situazioni fortunate, prendiamo in ipotesi questa per non prendere in considerazione chi sfortunatamente muore prima, supponiamo che noi nel momento della nostra nascita veniamo dotati di un metaforico conto corrente in cui al posto del denaro vengono messe i giorni, gli anni, le ore, suddividetelo come cazzo volete e sostanzialmente questa quantità di tempo si depaupera, si riduce man mano che noi ci avviciniamo alla morte. A differenza del denaro non può essere rimpinguato questo conto corrente perché il tempo è l'unica entità della nostra vita che non può essere recuperato in nessuna maniera e quindi nei nostri comportamenti quotidiani, io stesso che faccio questo video ogni tanto ci casco perché come dico sempre non è che io sono un santone o un guru, però il rendersi conto di queste cose già fa sì che uno cada meno in questo errore. Ecco, noi se ci rendiamo conto molto spesso nel quotidiano usiamo la parola, ah devo far passare queste due ore, ho lo scazzo, non vedo l'ora che passino queste tre quattro ore, oppure non so, io faccio un esempio su me stesso così appunto umilmente mi pongo ai livelli di un uomo comunque con caratteristiche umane e fallaci che possono avere anche altri, io spesso la domenica, la domenica pomeriggio, siccome magari il sabato mi lascio un po' più andare perché in settimana cerco di tenermi con il cibo, non tocco alcoli, ciò cosa, il sabato magari, anzi magari togliamo magari, mangio di più e sbevo occhio anche, ovviamente sempre in sicurezza, non guido da ubriaco anche perché insomma io sono abbastanza pantofolaio, però mangio, sbevo occhio un po' di più, poi la tiro magari fino a tarda ora prima di andare a dormire e la domenica molto spesso sono in quello stato catatonico che in cui sarete molti di voi, anche che mi capirete, in cui sei lì che dici come faccio passare sto pomeriggio e sei lì che poi magari fai delle puttanate, ti ritrovi a scrollare i social, soprattutto delle pagine di merda inutili o delle cacate tipo tiktok o instagram, ma poi per carità anche in quelle, anche in quei social lì c'è qualcosa di buono, ma comunque generalmente no, o fare zapping in televisione e sostanzialmente buttare via del tempo, buttare via del tempo, ecco è importante rendersi conto anche di questi comportamenti che noi abbiamo sbagliati perché anche se comunque continuiamo, continueremo sempre in parte a farli, il rendersene conto ti permette di farti accendere dentro di te una spia, come quando sulla macchina c'hai la spia gialla che si accende del motore o di qualcosa che non va, ecco ti avverte che insomma c'è un tuo comportamento erroneo, proprio perché il tempo non andrebbe mai buttato via. Io ho risolto questo problema ad esempio nell'esempio della domenica pomeriggio, siccome comunque dopo un sabato sera che magari ho mangiato di più, sbevo occhiato cosa, comunque la domenica ho lo scazzo e non ho voglia di troppo di muovermi, l'ho risolto nel cercare di investire questo tempo per esempio nel guardare dei video qua su youtube di altri canali, di altri youtuber che mi permettono poi a loro volta di fare io dei piccoli video per voi, di arricchirmi io culturalmente nel guardare questi video oppure di leggere qualche libro, ma normalmente i libri li leggo più in settimana perché ripeto la domenica pomeriggio sono abbastanza abbioccato e almeno do un senso migliore a questa mezza giornata, se siete onesti con voi stessi ci saranno parecchi e parecchie di voi che la domenica è proprio quel classico, la domenica pomeriggio è proprio quella classica mezza giornata che uno rimane un po' lì a buttare via del tempo, piuttosto che altri lo fanno anche in settimana o nel fine settimana, ecco sappiate che cioè praticamente a voi è come se steste prendendo della sabbia dentro la vostra clessidra della vostra vita e le stesse o questo metaforico conto corrente che avete e la stesse buttando stesse buttando nel cesso, avete capito? Oltre a questo c'è anche il discorso che la nostra vita oltre a essere a tempo determinato è anche suddivisa in stagioni ovvero quello che tu puoi fare quando sei figo e hai 20 30 40 anni non lo puoi fare quando o lo puoi fare di meno con più difficoltà quando ne hai 50 60 70 quindi ci sono anche determinate attività determinati divertimenti determinati sfizi che è giusto anche che uno si concede in determinati stagioni della vita perché comunque ripeto poi passano e trovarsi poi magari a 70 anni a voler fare quello che non hai fatto a 30 risulta anche un po' ridicolo poi per carità io do il beneficio del relativismo a tutto però mi avete capito cosa intendo ecco bisogna rendersi conto di essere nati a tempo determinato e rendendosene conto cercare di limitare al massimo gli sprechi di tempo sprechi di tempo con se stessi e poi apro un'ultima parentesi veloce anche con altre persone quindi nei rapporti amichevoli e nei rapporti sentimentali o cosa cercare di investirlo anche con persone che ci diano un qualcosa ci diano un ritorno perché se tu lo passi al bar o solamente ai giardinetti a farti canne e stare lì ad ammuffire sempre con le solite persone e bom si va bene io non sono un bacchettone faccio l'esempio delle canne perché me le sono fatte anche io però ho capito ma devi anche cercare di trovare delle attività che ti facciano crescere sia intellettualmente che personalmente e poi anche delle relazioni sia amorose sentimentali o amichevole che ti accrescano perché se tu perpetui delle relazioni che ti fanno ammuffire nella noia ammuffisci anche tu e fai ammuffire questo tempo che ti è stato dato per vivere nel bene e nel male in questa terra boh chiudo qui questo video non è che ha una valenza così filosofica molto molto geniale cioè non è che sono considerazioni che potrebbe fare anche mia nonna però è importante mia nonna adesso non le può più fare quando era viva però è importante ricordarle perché molti molto spesso ci ci dimentichiamo che dobbiamo morire ecco quindi detto un po la troisi ricordati che devi morire e segnatelo soprattutto chiudo qui mettete per favore un like se vi va iscrivetevi al canale commentate sgrillettate la campanellina le solite cazzate che vi dico sempre ok buon fine settimana a tutti